Sto tipo monitorando la situazione, stai calmo E' il mio stile, è il mio stile Non mi accontento, non è il mio stile, è il mio stile Se sono reazioni a fare un uomo, mi affare un uomo Sono io, ma io nonci Un uomo non si accontente, è il mio stile, è il mio stile Rimani concentrato come dico più di una stretta armata o di un lavoro ben fatto vanno a chiudica e lo stile giudica dai famosi si infedina te stesso questo vuoi nel mondo di successo questo fa di me questo fa di me questo fa di me Fa di me, questo fa di me, questo fa di me, questo fa di me, questo fa di me. Mi accontento. E' il mio sfide! Adesso! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.